Amici della Provercelli, siamo con Davide Poletto, responsabile dell'attività di base, siamo allo stadio Silvio Piola, oggi si tiene il primo dei due Open Day dedicati alle annate 2008, 2009 e 2010, l'altro si terrà lunedì 14 settembre. Prima occasione per vedere questi piccoli amici che si ritrovano su un campo di calcio per la prima volta, nella speranza di farli crescere fino a che arriveranno in prima squadra, questo è sempre l'obiettivo quando si parte. Sì, diciamo che la speranza che questi bambini possano crescere un domani, magari perché no, diventare dei futuri campioni e a maggior ragione giocare nella Provercelli sicuramente è una speranza che ci guida, anche se bisogna dire la verità a quest'età la cosa che ci riempie di gioia è vedere questi bambini che corrono all'impazzata in questo rettangolo verde meraviglioso, si divertono e ci portano serenità e allegria. Provercelli è sempre molto attenta al settore giovanile, quindi soprattutto da questi piccoli amici, si parte dai 5 anni praticamente perché sono annati 2010 i più piccoli. Sì, le fasce d'età in effetti che vengono conglobate nella scuola a calcio sono le annate 2010, 2009 e 2008, quindi bambini dai 5 agli 8 anni. Novità di quest'anno è che anche queste tre fasce d'età, nonostante la Provercelli avesse sempre supervisionato anche negli anni scorsi questo tipo di attività, è stata inglobata in toto come gestione sia a livello tecnico che a livello burocratico, amministrativo, comunque gestione totale alla prima squadra, quindi a tutto il settore giovanile e all'altra squadra del settore giovanile. Questo fa sì che la famiglia, anche se era già in toto l'anno scorso, comprendeva anche la scuola a calcio, è unica dalla prima squadra, quindi dai campioni della prima squadra fino ai bambini del 2010, si ha un unico stile, un unico pensiero, sicuramente un'unica passione per il calcio e un'unico amore anche per la nostra Provercelli. Abbiamo ricordato all'inizio dell'intervista, si terrà un altro Paynday lunedì 14 settembre, ricordiamo partecipazione gratuita, basta venire solamente qua con maglietta, calzoncini e scarpini e poi tutte le informazioni vogliamo ricordare per chi si volesse iscrivere. Certo, lunedì prossimo, che è il 14 settembre, ci sarà un altro appuntamento come quello di oggi, è aperto a tutti e a tutti i bambini che hanno voglia di provare anche solo una volta a calcare il campo dello Stadio Piola. Non dimentichiamoci che è aperto anche alle bambine, perché anche le bambine di queste facette possono fare tranquillamente calcio senza nessun problema, oltre al fatto che chi avrà poi l'opportunità, la voglia e ci darà l'opportunità di essere appunto aggregato, di essere attesserato per la nostra scuola calcio, Dulcis in fundo, ma non per ultimo, secondo me è un omaggio di pregio, avrà anche in dotazione un abbonamento, omaggio per seguire la prima squadra durante tutte le partite casalinga dell'annata calcistica. Grazie a tutti, grazie a tutti.